Giorno, sono Femmo Blas, per gli amici Blas Femmo, mi sono collegato, manco ho fatto colazione, sennò ti ho fatto guardi per leggere un libro che poi vi dico, che pigia la verità, è il primo giorno di scuola oggi, guarda come sono contenti, conte due, guarda tutti col telefonino, come sono contenti, guarda, tanto pagamo noi, cioè voi, voi, pagate voi, quelli che stanno su, questa è un'altra commessa, a Muzzicona che si mette i vestiti vario vinti, te posso, dagli un bacio, a Giuseppe, Giuseppe questo sarebbe Giuseppe, come ha detto Trump, tutti contenti, guarda, ma di che cazzo siete contenti, che qui le cose funzionano, le strade sono bucate, le fabbriche sono chiuse, c'è sta cazzo integrazione, qua giocano, queste sono le campanelle, figo, prosciutto è figo, partiamo anche un po' all'ordine i neoministri, perché ovviamente questa è la prima occasione, è la prima occasione, speciale camera diretta, guarda tutti contenti, emozionati, i banchi del governo, è aperta, a seduto.